La mozione, quella unitaria del PD alla Camera, se non sbaglio, al Senato poi ce ne sono quattro? Sì, perché sono state presentate in momenti diversi. Noi abbiamo aderito e sottoscritto quella che è stata presentata da Emanuele Fiano come prima firma e credo che sia una responsabilità che si deve assumere la politica di fronte a una degenerazione che corrisponde anche ad una parziale chiarificazione anche delle cose dal mio punto di vista che ha detto adesso anche molto correttamente il professor Celotto. Cioè noi ci troviamo di fronte ad un'organizzazione come Forza Nuova che è stata già individuata come un'organizzazione di stampo e di matrice fascista che utilizza la violenza secondo alcune sentenze della Cassazione. Quindi da questo punto di vista semmai il problema è perché non sia stata sciolta prima. Esatto. E quindi dal mio punto di vista, che chiedo lo scioglimento personalmente insieme a tanti altri dello scioglimento di Forza Nuova, rientrerebbe esattamente all'interno della legge Scelba per quanto concerne l'affidamento al Ministero dell'Interno dello scioglimento perché c'è stata più di una sentenza nella quale si chiarisce anche in relazione a vittorie che sono state realizzate da chi era stato poi accusato di diffamazione nelle quali in queste sentenze è chiarito che Forza Nuova è un'organizzazione fascista. Ora, il punto è l'escalation che si è determinata perché non solamente appunto basta l'apologia ma l'utilizzo della violenza come strumento di lotta politica questo è del tutto evidente che sia stato applicato proprio nell'ultima vicenda di sabato scorso perché quando dal palco il leader di Forza Nuova dice andiamo ad assaltare la CGM e lo dice due ore prima e questo poi è un problema dell'ordine pubblico del quale magari poi approfondiamo sta praticando non solo un incitamento alla violenza ma sta indicando ad una organizzazione formalizzata e che purtroppo è stata anche presente in alcune competizioni elettorali quale debba essere la via? Siccome dice questo Stato sono sue parole in questo Stato non c'è più spazio per la discussione democratica dobbiamo fare l'atto di forza e l'atto di violenza lo propone, lo fa entra nella casa dei lavoratori per la prima volta dopo cent'anni perché è accaduto solamente all'epoca del fascismo e realizza in questo modo un cortocircuito che porta direttamente allo scioglimento dopodiché il fatto che Draghi abbia detto stiamo riflettendo perché c'è una valutazione della magistratura in corso io lo considero saggio ma che la politica proponga lo scioglimento non è un manifestino è un atto di responsabilità rispetto a quello che viene sancito dalla dodicesima disposizione transitoria della Costituzione dalla legge Scella Allora Gaspari